Oh, dobbiamo provare, cavo! Qua dovremmo registrare, ma ancora non ci siamo decisi. Cazzo... Aiutai! Via! Una barbe già, posso, no? E l'altra? Cerco di fare tutte e due, no? Cerca di fare tutte e due, no? Non... De scripture erano ma per te come Non ne posso andare adora... Non ne posso andare a Con questo affondo si siamo stati così professore. Non ne posso capire a te come? È un sol... Che stai недà molto più. E un sol... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.